Buongiorno e benvenuti nel 2015. E' la prima puntata del 2015. Dio ragione avvocato, naturalmente dagli schermi di Videonovara. Auguriamo innanzitutto un buon anno a tutti i nostri ascoltatori. Anche se, certo, la situazione che ci sta intorno non è che sia proprio così favorevole, ma voglio dire, la speranza e una buona vibrazione credo che aiutino più che un pessimismo. Quindi ancora tanti auguri di buon anno. E innanzitutto vorremmo anche ringraziarvi perché questo è il decimo anno, siamo a metà del decimo anno della nostra trasmissione. E vediamo con piacere che ancora la trasmissione piace, viene seguita. Dieci anni di presenze settimanali, ogni settimana. Siamo con voi. Stamattina appunto sono stato fermato e insomma una persona ha espresso il suo gradimento. e quindi noi continuiamo con le nostre argomentazioni, con le nostre informazioni. Anzi, le dirò di più. Però abbiamo, sì, ho incontrato un nostro ascoltatore che mi ha detto, ma quante puntate avete fatto? Ed effettivamente avremmo dovuto fare come le più seguite telenovela con il numero di puntate indicato in apertura nella sigla. Però ho fatto il conteggio. Ho un buon archivio, potrei anche mettermi. Io so che lei ha un buonissimo archivio con tutte le puntate, ma ho fatto una ricerca, calcolando la cadenza settimanale, non agosto e tutto, ci stiamo avvicinando alle 500 puntate. Per cui... Per cui forse è ora di iniziare, perché poi ci dicono che siamo un po' troppo... Prolissi, ne... Autoreferenziali. Autoreferenziali, addirittura. Allora, va bene, comincia l'avvocato Bastetti. Primo argomento. Allora, diciamo, prima puntata dell'anno, iniziamo con un argomento che... Nuovo. Nuovo, ma non direi, non nuovo, direi un argomento che ci ha visto in passato, parecchie volte coinvolti nei nostri dibattiti che facciamo televisivi. E' un argomento, quello di oggi, in tema di condominio. Per la verità, si intrecciano due argomenti, il condominio e la compravendita di immobili, no? Possiamo dire. In buona sostanza, io partirei con un consiglio. Allora, a tutti i nostri ascoltatori, è questo. Quando avete intenzione di acquistare un immobile in condominio, state ben attenti di consultare l'amministratore del condominio per vedere se il venditore ha in sospeso delle rate condominiali insolute. Cosa che adesso è anche un po' più facile, perché con la riforma c'è l'obbligatorietà di indicare con targhetta nei vari condominio... Certo, il nome dell'amministratore. Però questa è una cosa fondamentale, questione proprio di diligenza, anche perché, voglio dire, le rate condominiali, se si considera anche il riscaldamento centralizzato e tutto, possono avere un importo di notevole di valore. E questo perché ve lo dico? Perché l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, in particolare i commi 4 e 5, dicono questo, chi subentra nei diritti di un condomino, per cui chi acquista un appartamento, è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, per cui gestione in corso, anno in corso e quella precedente. C'è l'obbligo solidale tra il venditore e l'acquirente. Per cui questo può incidere anche sul prezzo di acquisto, ovviamente, poi chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con la vente causa, ma questo è per chi cede diritti, rimane obbligato. Ecco, molti di voi diranno, beh, queste cose però già le sapevamo, no? L'articolo 63 alcuni potevano conoscere, ma c'è qualcosa in più e vogliamo dare un nuovo suggerimento, non solo di recarsi dall'amministratore del condominio e consultare appunto il consuntivo, vedere quant'è l'insoluto eventuale del venditore, ma anche farsi dare copia del regolamento condominiale, che tanti non lo chiedono. E questo è qualche motivo. E' difficile anche, però, è fondamentale alla luce di una sentenza recente della Corte d'Appello di Torino, che in buona sostanza ha dichiarato che l'obbligo per quanto riguarda l'acquirente di pagare le due annualità può essere ampliato da una disposizione contrattuale del regolamento, cioè un regolamento condominiale, pur contrattuale, può ampliare questo diritto del condominio di esigere dal nuovo acquirente non solo le ultime due annualità, ma anche tutto il debito. Il caso trattato dalla Corte d'Appello di Torino, tra l'altro, prevedeva, ed è interessante perché in primo grado il Tribunale ha dato ragione all'acquirente, in sostanza ha detto il Tribunale di Torino in primo grado. No, il debito è limitato, la solidarietà è limitata agli ultimi due anni, agli ultimi due gestioni. Quindi la prima pronuncia del giudice è stata quella normativa. Dice, perché l'articolo 63 dice questo e non può un regolamento ampliare quello che dice la legge. Corte d'Appello che ribalta la sentenza del primo grado, cosa dice? Ma no, ma no, in realtà il regolamento condominiale non è che amplia quello che dice la legge. Sì, in questo caso amplia i diritti del condominio, per cui è legittimo, cioè questo si tratta di diritti del condominio, per cui è una sentenza che segnalo del 26 luglio 2014. Questa è una novità anche per me, io l'ho letta e sono rimasto, non dico basito, però insomma, ero convinto, molto sorpreso, ero convinto anch'io, come del resto anche il Tribunale di Torino, che il limite massimo erano le due gestioni. Indicate dalla 63 disposizione. Ripetiamo, se il regolamento condominiale prevede diversamente, si può ampliare, non si possono ridurre, si possono ampliare. Ok. Per cui modificabile in senso di ampliare i diritti del condominio. E comunque, in questi casi, come sempre, l'informazione è importante, non andate al buio o parzialmente al buio, cercate di consultare. Avere tutti i dati dall'amministratore condominiale. Bene, io invece, saltando, ma non completamente, di palo in frasca, con volo pindarico, parlo è un librino che ogni tanto consulto, perché anche nel nostro diritto ormai arrivano questi librini tipo le FAQ, no? Frequently Asked Questions, cioè le domande che sono più frequentemente poste. Ed è un buon ripasso anche per noi. Se vi capitasse, per esempio, di leggere questo diritto processuale penale, ricordiamo che qualche tempo fa, purtroppo a Novara, ma anche altrove, talvolta gli amministratori condominiali, ma non solo loro naturalmente, hanno situazioni che sconfinano poi nel diritto penale, nella responsabilità penale. E proprio a tempo dietro ci fu un po' di polemica, di critica, perché a riguardo di un certo caso che si era verificato, ci si era chiesti da parte di molti lettori, di molti cittadini, come mai non fossero state applicate a questo amministratore delle misure cautelari, come la custodia in carcere. Io all'epoca avevo anche preparato un articolo che uscì sul Corriere di Novara per spiegare appunto per quali motivi non si era arrivati a quello. Ma quello che vorrei dire oggi invece qua, con più tranquillità, è un po' il modus di legiferare del nostro, e forse non solo del nostro, legislatore. Prendiamo alcuni punti brevi sulle misure cautelari. Intanto, che cosa sono le misure cautelari e quali sono le caratteristiche? Leggiamo. La misura cautelare consiste in un provvedimento provvisorio e urgente, adottato dall'autorità giudiziaria che provvede su richiesta del pubblico ministero, cioè da pubblica accusa, precedentemente a una pronuncia definitiva sulla colpevolezza dell'indagato. che incide sulla sfera dei diritti e delle facoltà del soggetto, al fine di salvaguardare esigenze di tutela della collettività o di evitare un pregiudizio all'attività processuale e garantire anche e assicurare l'effettività poi della decisione penale. Quindi, questa è una misura cautelare. Come si divide? Saltiamo un attimo. Le misure cautelari si suddividono in questi due tipi. personali che determinano una limitazione della libertà e sono coercitive, oppure del libero esercizio dei diritti, delle facoltà giuridiche, si chiamano interdittive e poi reali, cioè che cadono sulla cosa res, che incidono infatti sul patrimonio determinando l'indisponibilità di cose e di beni dell'indagato. Sequestro, conservativo e preventivo. Le misure coercitive ovviamente si dividono in custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura, le altre sono il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia, allontanamento dal domicilio familiare, divieto o obbligo di dimora. Quali condizioni, vedete come opera il legislatore, debbono sussistere ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale e qui cominciamo ad arrivare a una cosa che ci interessa un po' di più. Devono sussistere per una misura cautelare personale queste condizioni, articolo 273 del codice di procedura penale, gravi indizi di colpevolezza e che il fatto non sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o che non sussista una causa di estinzione del reato, una causa di estinzione della pena e dall'altro lato occorre che si riscontri la sussistenza di una di queste tre esigenze elencate nell'articolo 274, pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato. E qui vedete che cominciamo da quella che... Si ricordano poi i principi fumus boni e civilistici, pericolo mimmoras. Certamente, ma la norma che prima sembrava bella, chiara e teorica, cioè le prime distinzioni, qua comincia a diventare una norma da interpretare, da apprezzare da parte del giudice e del pubblico ministero che in quel momento agisce. E lì c'è il margine di... Certo. Poi vediamo, per esempio, veniamo un attimino a quello, un attimino a volte lo so che è brutto dirlo, ma mi sfugge, quali requisiti deve contenere appena di nullità l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Deve contenere appena di nullità, ai sensi dell'articolo 292 del codice procedura penale, una nullità che poi è rilevabile anche d'ufficio, ma come? Ma come? Le generalità dell'imputato, la descrizione del fatto addebitato, la motivazione contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, nonché la loro rilevanza per l'adozione della misura, l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi magari forniti dalla difesa, l'indicazione delle specifiche ragioni, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la data e la sottoscrizione del giudice. E' una motivazione dettagliata. Per il che, ed è una misura molto dettagliata, e se un'ordinanza manca di uno di questi elementi, e allora qui bisogna vedere, ci sono i mezzi di impugnazione delle misure cautelari, per esempio il riesame e l'appello, oppure il ricorso per cassazione. Non entriamo troppo nei dettagli, ma vedete che le cose cominciano a complicarsi. Il riesame è previsto dal Tribunale della Libertà, di solito si chiama, è proponibile dall'indagato e dal suo difensore, articolo 309 CPP, avverso contro, quindi, le ordinanze applicative delle misure cautelari coercitive e dentro 10 giorni. L'appello è proponibile avverso le ordinanze applicative di misure interdittive, l'abbiamo detto prima, e cioè quelle, secondo caso, che sono quelle che privano la persona del libero esercizio delle facoltà giuridiche. Quindi bisogna anche stare attenti a quale mezzo di impugnazione si sceglie. E, per concludere, andando un po' velocemente, i presupposti di applicazione delle misure cautelari reali, cioè quelle sulla cosa, sequestro preventivo e sequestro, abbiamo visto, conservativo, se non vado errato, conservativo e preventivo, esattamente, sì, che a volte mi confondo con i sequestri in tema civili. Però, attenzione, che anche qua la situazione è che la norma dice il sequestro preventivo è disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, articolo 321, comma primo del codice precedente penale. Ma, se nel corso delle indagini preliminari sussistano ragioni di urgenza che non consentano di attendere il provvedimento del giudice, il PM, il pubblico ministero, può disporre questo sequestro, che deve però richiedere, dopo il sequestro, e poi richiede la convalida del provvedimento. E, ancora meglio, o peggio, non prendete questa cosa come una valutazione... Non giudichiamo. No, non giudichiamo, ma voglio dire che, nei casi di urgenza, addirittura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono fare da sé. E poi, dopo l'esecuzione del sequestro, hanno l'onere di trasmettere il verbale al pubblico ministero, il quale, a sua volta, lui, inoltre, ha il GIP per la convalida. Ecco, queste cose si trovano su un normale manuale della Simone o altri, beh, anche libri più completi. Ma, vedete che il modo di legiferare, comunque esso sia, incontra numerosi distinguo e, soprattutto, numerosi apprezzamenti che vengono fatti nel momento in cui il giudice è chiamato, la polizia è chiamata a, il PM è chiamato a. Se questi apprezzamenti non vengono poi condivisi dalla difesa o dall'indagato, allora l'opposizione, ma il tutto, viene fatto ex post. Quindi, su questa situazione, di fatto e di diritto che si interfeca... Dovrebbe esserci comunque l'intervento del giudice, quale garante, terzo, rispetto all'altra. Diciamo che la regola è quella, ma, in alcuni casi, questa regola viene parzialmente sovvertita, no, modificata o comunque subisce degli aggiustamenti. Quindi, tutto questo può portare, a volte, a spiegare perché, in un caso, il lettore, la persona che legge o che, magari apprende dai giornali determinati fatti, è portato a dire, ma qui ci voleva l'arresto, ci voleva la misura in carcere. Mentre, se poi andiamo a vedere effettivamente i vari distinguo legislativi e anche discrezionali di chi li deve applicare, le situazioni possono essere ben diverse. Con questo, vi prometto che la prossima puntata parlerò di argomenti magari di meno filosofie del diritto e più, sicuramente più concreti. Grazie a tutti per l'ascolto, anche prolungato. Buon anno ancora, a presto. Grazie a tutti.